Quando un uomo con la pistola incontra un uomo col fucile, quello con la pistola è un uomo morto. Mi regala, mi regala un biglietto omaggio a chi sa il titolo di questo film. Quando un uomo con la pistola incontra un uomo col fucile, quello con la pistola è un uomo morto. Chi è? L'obiettivo che gli attori, a me lo ha divertito. Tu cosa? Chi è? Sor la faccia torna a se parte puggirei mi spoglie ma potenza sta zavolita la gianca mi sono state e lo puño E qui c'è la base, eh? Beccato! Tutti i siti di grazia Ragazzi siete pronti per Instagram? Sì o no? Non ci scondiamo mai l'appuntamento, a domani è il campionato di... Zio, Zio Battuccio Non vi permettete che vanno a Battuccio Zio Battuccio Fate, fate, fate voi una colletta, qualcosa Aiutiamo un'opera di bene Compriamo un apparecchio acustico Combattiamo per la volontà Ehi, o no? Ehi, o no? Perché no? Perché no? Perché no? Perché no? 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 Perché no? No? Perché no? Perché no? Perché no? Salute, grazie. Salute, grazie. Salute, grazie.